Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me e da un nuovo video in cui torniamo a parlare di questo libro, ovvero sia combattere senza paura e senza speranza del generale tedesco Frido von Sänger und Etterlin. Mi era venuto in mente di riguardare questo libro perché diciamo che c'è un povero fesso, chiamiamolo il suo nome, un poveretto che viene a rompermi le tasche sul canale e che ha tirato in ballo il galantuomo, il nobile galantuomo bavarese e terziario dell'ordine benedettino. Vabbè, lasciamo stare quella cosa delirante. Mentre stavo dando un'occhiata a questo libro, mi è capitato sott'occhio un capitolo intitolato Esperienze di comando difesa mobile che trovo estremamente interessante. Allora, i due esempi di impiego di un gruppo da combattimento, il cosetto Kampfgruppen, illustrano il principio per cui bisogna, quando si è sulla difensiva, tenere raccolti i carri armati e impiegarli in azioni offensive. I comandanti di grandi unità che abbiano poca dimestichezza con la tattica dei mezzi corazzati o che abbiano avuto l'avventura di comandare fronti lunghissimi, minacciati da formazioni corazzate e presidiati da forze troppo diluite e ne siano rimasti impressionati, sono tentati in situazione simile di sparpagliare i carri di cui dispongono. Errore grave. I carri vanno sempre usati come forza mobile compatta. La fanteria della divisione non era in nessun punto del fronte in grado di respingere con i propri attacchi di mezzi corazzati. Non disponeva di Panzerfaust, non disponeva neanche di Panzerschreck. I Panzerschreck, che vuol dire più o meno terrore dei corazzati o terrore corazzato o qualcosa del genere, erano l'equivalente dei bazooka americani, i lanciarazzi, mentre i Panzerfaust erano dei lanciagranate. Sulla linea principale di resistenza lunga circa 40 chilometri erano schierati in tutto 8 pezzi da 75 mm semoventi, 4 pezzi da 76,2 mm semoventi e il 76,2 erano pezzi sovietici catturati e un cannone anticarro da 75 mm trainato, un 40. Alcuni di questi pezzi erano dislocati nell'area riservata ai servizi, minacciata dal nemico. Inoltre la cosiddetta artiglieria anticarro pesante venne a mancare quasi completamente nei combattimenti dell'8 gennaio 1943, perché era stata rifornita con munizioni difettose. Può succedere, capita, è capitato spesso e volentieri anche alle truppe italiane. In entrambi i casi i collegamenti a Tergo erano così gravemente minacciati da rendere senz'altro consigliati sotto il punto di vista tattico, un allontanamento dei carri armati. La divisione correva il rischio di essere tagliata fuori, ciò nonostante scartai questa possibilità. Un successo decisivo, seppure limitato nel tempo, poteva essere ottenuto solo concentrando in un unico punto tutti i carri disponibili. In casi del genere un appoggio dell'artiglieria degno di tale nome non fu possibile. Nella giornata del 5 gennaio il fronte non poteva rinunciare alle scarse artiglierie disponibili per appoggiare l'attacco dei carri spinto in profondità nel territorio nemico, anche perché la divisione non disponeva di artiglierie semoventi. Nel secondo caso, quando la divisione di fanteria russa attaccò la nostra linea di resistenza principale, l'artiglieria avrebbe potuto bensì entrare in azione sotto la guida dell'ufficiale osservatore, anche perché occupava adeguate posizioni di tiro, ma non poteva intervenire perché il combattimento si frantumò in altrettanti duelli tra i singoli carri tedeschi e la fanteria russa. Il gruppo da combattimento principale rimaneva durante l'attacco quasi sempre alle mie dirette dipendenze. Non così, invece, il gruppo corazzato da combattimento, impegnato in un'azione offensiva nel quadro della difesa. Diceva qualcuno, la miglior difesa è l'attacco. Ti attaccano, rispondi, sì difendendoti, ma al contempo facendo azioni offensive, facendo dei contrattacchi per respingere l'attacco. L'ampio fronte minacciato mi costringeva ad occupare una posizione pressoché centrale. Non potevo infatti lasciare al capo dell'ufficio operazioni il compito di prendere le decisioni che in quel punto si imponevano. In compenso scelsi in entrambi i casi, per il comando tattico, una posizione molto avanzata che mi consentiva di intervenire direttamente, di osservare il decorso della lotta e di ristabilire, in caso di necessità, il collegamento tra le varie armi, sia nel cardine della linea di resistenza principale arretrata in direzione nord, sia nell'epicentro degli attacchi. Qui ero meglio collegato via radio con il gruppo corazzato, che tenevo di riserva per ogni evenienza. Nella già descritta operazione dell'8 gennaio il gruppo corazzato descrisse con la sua manovra un semicerchio attorno al punto nel quale mi trovavo, il che mi permise di dirigere l'azione in ogni momento senza spostarmi. Il gruppo corazzato venne anche quasi sempre assegnato il grosso dei semoventi d'assalto, nei casi in cui singole compagnie ebbero assoluto bisogno di una protezione anticarro, come per esempio all'ala destra, che era molto distante in entrambe le azioni, quella dell'8 e quella del 10 gennaio 43, i pezzi semoventi d'assalto si rivelarono anche in queste situazioni un'ottima arma. Perché, ricordiamocelo signori, il nerbo della Panzerwaffe, il nerbo delle forze corazzate tedesche non erano i carri armati veri e propri, no, erano gli Stug, gli Sturmgeschutz, i cannoni d'assalto. Ciò dipendeva dal fatto che questi pezzi non hanno una bocca da fuoco orientabile in tutte le direzioni e sono prive di torretta, per cui l'equipaggio riesce a sottrarsi all'effetto delle armi nemiche solo rivelando un'estrema mobilità. Eh, è bensì vero che l'assenza della torretta si traduceva in uno svantaggio per l'equipaggio, ma questo ad altra parte aveva una visuale più ampia e poteva orientarsi meglio. Così non correva il rischio di soffermarsi nel corso di uno scontro con mezzi corazzati, tendenza questa manifestata invece dei carri armati, la cui visuale rimane piuttosto ridotta durante gli spostamenti. Ebbene sì, gli Stug qualche vantaggio, oltre all'economicità e alla praticità dell'installazione di un cannone potente su scafi già in produzione ma obsolescenti, avevano anche la caratteristica di sorprendente, sorprendentemente, si vedeva meglio. Eh sì. L'assegnazione dei, e qui vengono però le dolenti note, l'assegnazione dei dieci carri tigre aumentò in misura notevole l'efficienza combattiva della formazione corazzana. I tigre erano molto superiori ai T-34 russi sia per corazza sia per potenza dell'armamento. Stiamo parlando dei T-34-76, ricordatevele. Con l'85 mm diciamo la musica cambiava. Per cui dominavano il campo di battaglia entro il proprio raggio d'azione. Inoltre costituivano un'efficace protezione per i carri meno potenti, il che contribuiva ad aumentarne lo slancio combattivo. Ciò nonostante le speranze risposte dal comando supremo tedesco in questi mezzi non si rivelarono giustificate. Prima di tutto il loro numero era troppo ridotto. Inoltre i pesanti tigre si rivelarono poco agili per la tattica mobile applicata dalla mia divisione. Il tonnellaggio eccessivo li rendeva lenti, per cui non riuscivano ad adeguarsi alle manovre molto più veloci degli altri carri. Altra remora era inoltre l'ordine per cui nessuno di questi carri doveva cadere in mano nemica. 131, scusate, il mitologico 131 di Bovington, ve lo ricordate? Quello che si vede in Fiori. Hitler aveva riposto eccessive speranze nella compagnia dei tigre, come si poteva arguire dalle frequenti richieste di informazioni del comando supremo. I tigre non erano abbastanza numerosi per imporre una svolta in una grande battaglia. Nei casi di gelo acuto, poi, i tigre avevano un altro difetto, quello di scivolare, a causa del loro grande peso, lungo i pendii ghiacciati, il che richiedeva sempre l'intervento di altri due tigre per il rimorchio. Lo stesso accadeva quando un tigre veniva immobilizzato perché colpito. Nessun altro carro o mezzo era in grado di rimorchiarlo. Un'altra considerazione. Se l'avversario dovesse conquistare la supremazia aerea, cosa che durante la permanenza di Fonsenger in Russia non avvenne mai, il terreno scoperto consentirebbe solo l'impiego di grandi formazioni di carri veloci perché l'aviazione, se vede pochi carri isolati, fa festa. Gli gira attorno e ciao! Soprattutto quando si trattava del Gustavone, soprattutto quando si trattava dello Sturmovik, lo Il-Due, lo Eisern Gustav, come era chiamato dai Der Schwarztodd, la Morte Nera, come veniva chiamato dai carristi tedeschi, lo Sturmovik. Fonsenger in queste brevi considerazioni si dimostra il grande professionista dell'arte della guerra che era. Eccellente comandante di divisione spiega come utilizzava i suoi mezzi, spiegava l'importanza che per un comandante ha il tenere sott'occhio il campo di battaglia, ha portato ad occhio l'uso delle radio, la comunicazione, il vedere, il sentire il campo di battaglia. Vi viene in mente quel tal generale, quel tal generalissimo francese che pretendeva di comunicare col fronte da un castello isolato tramite portaordini? Eh, avete presente quell'altro generalone che dal fresco di un sotterraneo, forse vecchia cisterna d'acqua romana, a circa 250-300 chilometri dal fronte, pretendeva di comandare le sue truppe senza essersi mai avvicinato alla linea del fronte senza avere un'idea di come si muovevano le truppe? Eh, un comandante deve avere una visione del campo di battaglia chiara. In una guerra moderna, in una guerra, e la seconda guerra mondiale, anche se sono passati 80 anni dai fatti narrati da von Sengher und Eterrin, è una guerra moderna. È una guerra di comunicazione, è una guerra in cui la rapidità e il movimento sono tutto. comunicazioni, rapidità, movimento, visione immediata di quello che succede sul campo di battaglia. Osservare, vedere cosa succede, controllare lo schieramento nemico, controllare il proprio schieramento, saper usare i mezzi che si hanno a disposizione. E von Sengher in questo oggettivamente fu un maestro, fu indiscutibilmente un maestro. Poco da dire, poco da fare. Spiega anche magnificamente von Sengher come il vero nerbo delle sue forze corazzate fossero gli indispensabili Stug, 2, 3 e 4. Gli Sturmgeschutz, i cannoni d'assalto. Un'idea semplice e geniale. Prendi un potente cannone da campagna, utile anche come pezzo anticarro, lo monti in una casa matta fissa su uno scafo già in riproduzione ma obsolescente e riesce a portare in prima linea un cannone potente che fornisce supporto ai carri armati veri e propri e soprattutto alla fanteria, sia come mezzo anticarro sia come pezzo da campagna. L'uovo di Colombo, dirà qualcuno. Però intanto i tedeschi c'erano arrivati. I tedeschi con gli Stug avevano saputo fare di necessità virtù. Un pezzo da campagna il più grosso e il più potente possibile, montato su uno scafo a disposizione anche se obsolescente, risparmi sulla torretta, risparmi sull'installazione, risparmi sul mezzo perché hai uno scafo già in produzione, quindi risparmi anche sulla catena logistica e sui pezzi di ricambio e quindi che cosa succede? Succede che riesci a mettere in linea qualche cosa di potente, qualche cosa di efficace, qualche cosa in appoggio ai carri armati, ai carri armati veri e propri, ai panzer veri e propri che altrimenti sarebbero in difficoltà. E soprattutto von Sanger spiega la difficoltà nell'uso dei tigre, i problemi dell'uso operativo dei tigre, la difficoltà di affrontare il terreno gelato e scosceso, il problema troppo pochi, troppo lenti, troppo pesanti, utili come postazione, utili come fortezza mobile, utili come punto di lancio per il contrattacco. Cioè ci sono i tigre, sfondano la linea e arrivano gli altri, arrivano i panzer 3, i panzer 4, arrivano gli stug che avanzano nel punto dove i tigre hanno rotto il fronte nemico ma per il resto usato in maniera diversa il tigre si rivela un mezzo problematico e quasi inutilizzabile. E, ripeto e sottolineo, come detto da von Sanger non è tanto avercelo più grosso ma è saperlo usare. Von Sanger usò estremamente bene i suoi mezzi corazzati. Spiega nella sua esperienza quanto furono importanti i sottovalutatissimi stug. C'è una cosa che non mi stancherò mai di dire e lo ripeterò sempre. Bisogna sempre ricordarsi che il vero nerbo delle forze corazzate tedesche erano gli stug, gli semoventi d'assalto, gli Sturmgeschutz. Una soluzione tra virgolette economica, una situazione forse arrangiata ma dannatamente, dannatamente, dannatamente efficace. Tutto qua. Quindi, cari signori, adesso come sempre tocca a voi. Commentate qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io posso soltanto dire che von Sanger, come pochi altri generali tedeschi della sua epoca, ha una capacità di analisi e critica non da poco, un'indipendenza di pensiero ed una obiettività rara a trovarsi nella memorialistica degli alti ufficiali tedeschi. Vero Erich? Scusate, è vero, ce l'ho sempre con von Manstein, ma diciamo che un po' il fu Edward von Levinsky, diciamo che un po' se le tira dietro. Insomma, signori, come una divisione tedesca respinse l'attacco sovietico tra l'8 e il 10 gennaio 1943, riuscendo a cavarne fuori le bucce e a fermare il nemico. Von Sanger era, ripeto, una persona intelligente, un generale abile e capace, un ottimo comandante di truppe corazzate, era un maestro sicuramente nella difesa, era sicuramente un generale capace, un professionista serio, ma che soprattutto rispetto alla quasi totalità dei suoi colleghi della Wehrmacht aveva una capacità di analisi e di critica che non ha assolutamente uguale. Tutto qua. Quindi, cari signori, adesso, come sempre, tocca a voi. Qua sotto commentate. Se non siete iscritti, iscrivetevi a questo canale, accidenta voi e a chi non ve lo dice. E tanto per cambiare, come sempre, come al solito, un grande abbraccio e soprattutto ciao!